Ciao ragazzi, io sono Mario, il coach. Oggi vediamo come allenare l'interno coscia. Ti basta un tappetino. Attenzione, in questo video, se hai problema sulle articolazioni delle spalle, guarda bene, basta appoggiarsi non sui gomiti, ma creare proprio un appoggio con il braccio, quindi creare il cuscino con il braccio. Quindi guarda bene il piede a martello, quindi cosa molto importante per far attivare bene l'interno coscia. Se hai qualche domanda, mi iscrivi sotto. Allenati bene. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.